Allora è partita anche questa finale La prima eliminazione sarà doppia Poi le altre tutte singole Intanto Possiamo costare un bel ritmo gli atleti Nella città di Priolo Cargallo Con Bramante Che si è portato nelle prime posizioni del gruppo Ha passato un suono della campana Ed è ora il terzetto Con Bramante Fiorito E la rosa In testa al gruppo Ma andiamo a vedere la coda Perché qui ci sarà la doppia Unica doppia eliminazione 2-2-1 9-9-1 Si fermano i due atleti Mentre siamo alla campana di meno 46 Con il quartetto ora di città di Priolo Cargallo Risale un altro atleta della squadra siracusana E ora formano un quartetto in testa al gruppo Eliminazione singola 5-8-6 5-8-6 Chitto Frati 5-8-6 Restano in testa gli atleti Di Priolo Con Bramante Con Bramante A guidare Il gruppo E a fare esercizi Di stretching Eliminazione 2-6-8 Falaschi Al passaggio la campana di meno 42 Con Bramante Con Bramante Che va a stringere il pattino Numero 83 Ammonito Numero 3-0-2 Ammonito 5-9-5 Eliminato 5-9-5 Fa solo Eliminato Campana Di meno 40 Con ancora gli atleti di Priolo A dettare il ritmo In testa al gruppo Eliminazione Di meno 39 Numero 5 Nero E gara veloce Anche questa Campana Di meno 38 Con gli atleti di Priolo Che non lasciano Spazio a nessuno Restano loro In testa al gruppo A controllare L'andatura Eliminazione 2-6-7 267 Si rialza La trenta Nella Sport Academy E intanto Siamo alla campana Di meno 36 9-7-4 Beton Ammonito Eccoli ora Il gruppo Si schiaccia In fondo Nella coda Eliminazione 112 Putignano Si rialza L'atleta Del Cardano E intanto Siamo alla campana Di meno 34 Velocissimi Si cercano posizioni In mezzo al gruppo 9-7-0 Bossi Ammonito 3-0-2 Entra In diffida Angeletti In diffida 3-6-4 Eliminato 364 Si rialza La quadarella Siamo alla campana Di meno 32 Con ancora La squadra Di Priono In testa Al gruppo E hanno creato Questo quartetto In testa Al gruppo Non lascia Entrare Nessuno Non c'è spazio Eliminazione 9-7-3 Eliminato Per taglio Di percorso 9-7-3 Si tratta Di Bosco Campana Di meno 30 E lo scenario Non cambia Con La squadra Di Priono Ancora In testa Ecco che ora Cercano Di rompere Il sodalizio Tra questi Quattro Atleti Ma non c'è posto Continuano A non trovare Spazio 52 52 Bayetta Fermarsi Ancora La squadra Di Priolo A dettare Il ritmo In testa La gara Al passaggio Di meno 27 Eliminazione 6-2-6 Per scorrettezza 6-2-6 Eliminato Per scorrettezza 59 Fermarsi Per taglio Del percorso 5-9 Salta L'eliminazione 5-9 Si rialza Giono Al passaggio E' saltata L'eliminazione Ora Prenderanno La campana Di meno 24 Ed è ancora Priolo In testa Al gruppo Ora Barisone Cerca di Trovare Spazio Tra le maglie Viola Del Priolo Mentre c'è Un atleta Che perde La coda Del gruppo E' al passaggio Di meno 23 Numero 6-9 Fermarsi Numero 8 Ammonito Zani 159 Ammonito Casadei 212 Ammonito Proverbio Sono ancora In testa Gli atleti Priolo Ci cercano Posizioni C'è stata Una caduta C'è stata Una caduta In fondo Al gruppo 81 Squalificato Numero 83 Squalificato Salta l'eliminazione in questo giro C'è caduta, c'è una caduta sulla furba, è un atleta della polisportiva di Bellusco Quando passa il gruppo sarà lui l'atleta a essere eliminato 9-7-4 E intanto ancora il quartetto di Priolo in testa al gruppo Ancora in testa i quattro atleti di Priolo Ora riesce a prendere posizioni Franconini Viene respinto dagli atleti di Priolo Un gioco di squadra Al momento perfetto ma ora all'esterno Cerca Marison di guadagnare posizioni E intanto viene eliminato il 212 9-8-8 a Munito Si tratta di Cannoni Campana di meno 14 Con la squadra di Priolo Che si è messa lì dal terzo giro E non si è più sfiodata Cannoni in quinta ruota Al passaggio eliminazione Ed è 605 Barison per taglio di percorso 605 605 Barison per taglio di percorso Ed è ancora la città di Priolo Gargallo in testa al gruppo Al passaggio 359 159 Scusate 159 Casa dei Campana di meno 10 Con ancora la squadra di città di Priolo Gargallo Nelle prime posizioni Ora Franconini Cerca di entrare Di rompere Questo quartetto Ora incominciano ad essere stanti Ed è ancora Priolo 9-7-0 Fermarsi Bossi 2-70 Ammonito 270 Ammonito 9-8-8 Cannoni entra in diffida Ed eccoli ora ai meno 7 6-5-4 Mallorca Ed ecco che Perdono un pezzo Gli atleti di Priolo Ma ne restano tre davanti Ne restano sempre tre davanti C'è stata la campana di meno 6 Ora siamo all'eliminazione di meno 5 Ancora in testa gli atleti 9-270-3 9-270-3 Ed è in diffida Numero 8 eliminato 8 eliminato 2-70 in diffida Siamo al passaggio Campana di meno 4 E poi saranno solo eliminazioni Ed è il Bravante Con la rosa In testa al gruppo Bravante La rosa Fiorito Eliminazione 9-8-8 Cannoni Fermarsi Bravante La rosa Eliminazione Ad ogni giro Bravante 2-7-8 E lui l'atleta eliminato Mentre in testa Continua Bravante Con la rosa Poi l'atleta De una Mosica In terza posizione Eliminazione 2-7-0 Eliminato E quindi sono Bravante E la rosa E la rosa Che portano a termine Il lavoro Incredibile Fatto Dalla Priolo Bravante La rosa E poi Con il numero 43 Non l'avevamo mai citato E' Clementoni Che va a prendersi La medaglia di bronzo E' Clemente E' Clemente Sparello E' contenta E'contradale Grazie a tutti